E' bello a tutti ragazzi, sono TheWidePlayer, oggi siamo qui nel decimo episodio di Rainbow Six Siege, in mappa Yacht. Volevo ringraziarvi per il traguardo raggiunto, ovvero 50 iscritti, che per voi saranno pochi, ma per me sono abbastanza, considerando il fatto che siamo in crescita. Siamo in compagnia di Federico, saluta, che sarebbe in occhio 65. 10 secondi all'inserimento, siamo in allo yacht, mi sa che questo l'ho già detto. Comunque, stasera, ah no vabbè, perché io sto registrando dopo la live che ho fatto, questo video lo vedrete, non so quando, vabbè quando lo vedrete, volevo dirvi soltanto che le live ci saranno molto in questo canale. Soprattutto perché ho visto che attirano molto gli iscritti e vi piace molto, e piace anche a me sinceramente. Non devo star lì a tagliare i pezzi e tutto il resto. Non c'è nessuno, può entrare Federico. Niente, godetevi, spero che il video vi piaccia, se che si esce con un bel like. Tiro la granata, fai denato. Vai, c'è un altro? Eh sì, ma lo fa spiegato. Spostati, vedi! Scusa. Cinque, ce n'è uno, ce n'è uno. Vai, lì è il fuoco. Vai, entra. Vai, 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 vai. Un'è sota, un'è sota. Sopra. No. Dai, io, io. È andato via lo Jäger. Hai scappato? Sì. Tanta? Tanta. Non ce l'ho io. Hai trovato la bomba. Abbiamo il disegno il pescatore. Uno. Devi lasciarla benissimo. Il pescatore online è attivo. Rimane un nemico. Eh, ma almeno si sta facendo una doppia. Guarda come l'ha ucciso. Forse, i difensori. Interigente. Allora, io mi prendo il mio amato Jäger. come un cuore raga anche se sto parlando dopo la live il video lo vedrete da un giorno o due stasera anzi anche oggi forse lo piazzo sì anche oggi stasera ci sarà una live insieme all'altro canale di un mio amico che ha raggiunto 50 iscritti insieme a me quindi sarà tipo uno speciale per voi spero vi piaccia faremo due live contemporaneamente vedremo di assimilare un po' di iscritti ancora 10 secondi comunque per tutti quelli che vedranno il video che avranno un clan di rainbow vi dico subito che Federico è uno dei più forti giocatori di rainbow che conosca quindi se volete iscriverti ciao se volete contattarlo si chiama Anaccio65 su playstation network è 1.2 1.2 di ratio 1.2 1.2 di ratio platino 2 è arrivato a diamante per tre stagioni diverse e ora può parte e ora può parte dei non sai che cosa dei aspetta dynamite che mi push bravo 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 questo slot è fantastico hai bisogno di aiuto vede ma non arrivo perchè sei qua con caveira vabbè no no vai vai sali sopra vedi dalle scale di cucina qua no perchè c'è un posto di gente c'è il mountain si ma non si ma non colpisca ma non riesce a peccare hai bombati ti 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 non ci vai vai mamma sono arrivata 50 quando questo qui si può far vedere guardi questa cambia dai però in monta è un po' fuori dove sono morto io fede è salito tanto viene da lì sicuro i difensori hanno eliminato tutti i nomici non ci sono non ci sono non ci sono non ci sono stasera ci sei? vediamo credo si beh ma nelle vacanze non ti fanno giocare nelle vacanze non lo so boh comunque deve esserci mi hai sbloccato su whatsapp non c'è altro numero di mandarlo 338 non c'è il telefono qua in carica scrivetelo da qualche parte aspetta tu riesci a mandami un messaggio no scusa tutte le volte che ti ho chiamato no? scrivi dimmi il numero non so fare eh puoi fare registri nei tuoi dubbi non so fare comunque ehm allora lo smoke ha 90 di vita mentre lo Jäger ne ha 80 mi ha fatto dormire mi piace dei soggetti con gli affari dello Jäger? eh? mi piace a fare gli affari dello Jäger? ehm danti 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 mi ha capitato lì mentre metteva il filo spinato non potevano scaragli almeno 10 il bisogno ma è vero che se tu gli metti in testa per il nemico tipo gli togli più vita? mmm non lo scondo sempre 10 tolgo cioè perché io mio amico gli ho sparato quattro volte in testa è morto all'alarga riesci a farmi un dirà? aspetta c'è il busto qui c'è il busto lì ok c'è la dè aaaaaaah smoke tanta gente qui si vado a fare i mila non ti preoccupare vai vai no ma il punto è che c'è un botto di venta fatto dai 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 me ne ho fatto uno però che ho vinto non puoi frenare se c'è qualcuno che mi ha detto no me l'ha fatto ho fatto il mira però grazie perché lì si scende oh io entro eh ma in no no me l'ha rubato vai planta pera 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 planta aspetta aspetta ti fai te eh vabbè ma io faccio etica no 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 ferma ferma c'è tutto quello che ti fai no uno tutto a destra vieni che ti fai dai i quattro e questo qui il plantazzo io che ti ho detto che ce n'è uno eh si sono distratto scusi grazie questo potrebbe unire per sempre l'ingentimento è ferma fai ferma c'è il shot è avvio eh cambio caricato hai perso il disinnescatore wow ma sono in due ma sono in due oh grazie dio ahhh togliato io c'è 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 dai push amy per favore forse già c'è quattro sei attento bravo difensori eliminati missione d'attacco riuscita dopo questi io devo andare col panna sì sì infatti però sono un video il site verrà così diciamo che si vince facile qua mi fregano tutti gli operatori non so che prendere oh mira io dopo sta partita non so che fare c'è io boh devo andare un poco qua intanto oh dio stavo bevendo madonna se facevo usci devo qualcosa ammazzami ho visto che ci sei non ti ho peccato a te tu eri adesso ma la squadra d'attacco ha trovato una bomba proteggetela qua ci sarebbe la dub no vabbè dub dub che è questo spara meglio che spara dal drone certo nooo quello col c4 che fa nooo mi butta il c4 addosso stigione ah sei tu mamma mia sembra che fosse quello con la record vedessi il viaggio che ha fatto ha sbattuto contro il muro ha sbattuto contro idea ha sbattuto contro la tua gamba e qua nella terra ha trovato un pazzo che giuro ti però non ha imbaricato un cazzo con il pane ricondizione via ma così ci muovi io ti dico ma morirò ti devo dire se vieni qua dietro a un mila forza ti cambi più via vanno appena rotto eh ma stai fermo bandit il bandit muore guarda 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 come muore il bandit scusate raga se non parlo molto se gioco un po' così ma occhi asci ah da dietro ci buscino tipo niente sopra sensore attivato non credo però tipo da dietro se li vai da sotto gli fai il tiro secondo me c'ho proprio da cucina hanno rotto cucina eh eccolo questi push perché ho sentito male sensore in campo eccolo Vai do durch vedo come da rimando con ele in fondo avvertire va così uno da scala scansione da nasciarla ultimo nemico rimasto infuser da montagne vai stai giocando malissimo sta partita dov'è? oh l'ho visto mira dai vabbè ce lo fanno loro vabbè ragazzi spero che il video vi sia piaciuto se così lasciate un bel like ovviamente sul canale portiamo anche molte altre live visto che piaceva la gente e niente ci vediamo al prossimo video saluta Fede ciao